Kafka, il passeggero non posso giustificare il fatto che sto su questa piattaforma mi tengo a questa cinghia mi lascio trasportare in questa vettura che la gente sfugga il tram se ne vada tranquilla o si fermi davanti alle vetrine dei negozi nessuno me ne chiede ragione ma questo non vuol dire la vettura si approssima a una fermata una ragazza si avvicina all'uscita pronta a scendere mi appare con gran chiarezza come se l'avessi palpata è vestita di nero le pieghe della sottana non si muovono quasi la camicetta è attillata e ha un collo di trina bianca maglia sottile la mano sinistra è appoggiata spianata alla parete l'ombrello nella sua destra sta sul primo gradino del predellino contando dal basso il viso è bruno il naso lievemente compromesso dalle parti finisce rotondo e ampio ha una fitta capigliatura bruna sulla tempia destra si vedono alcuni capelli mossi dal vento il suo piccolo orecchio è attaccato bene alla testa ma vedo perché le sono vicino la parte posteriore del padiglione e l'ombra sull'attaccatura dell'orecchio destro mi chiese allora come mai non è stupita di sé e ti ha inchiusa la bocca e non dice nulla di simile